Allora, questa sera introdurremmo il concetto di funzioni, tranquilli che non mi faccio matematica, come costrutto del linguaggio per permetterci di organizzare meglio il nostro codice, ok? E ci servirà sicuramente man mano che il codice diventa un pochino più complicato e supera le 5, 6, 8 righe dei programmi che stiamo facendo finora. Ok? E soprattutto ci permetterà anche di evitare di dover fare copia e incolla o ripetizione di codice molto simile o identico nel programma. Che cos'è una funzione all'interno del linguaggio di programmazione? È un blocco riutilizzabile, una parte di codice che si può riutilizzare. Un insieme di istruzioni che definisco una volta sola e riutilizzo più volte. Diciamo così, il parallelo che si può fare è quello con una scatola nera che fa delle cose, non mi interessa sapere tanto come le faccia, l'importante è sapere che cosa sta facendo, che risultato mi calcola a partire da un certo insieme di valori di partenza. Un esempio che possiamo fare è una funzione che già conosciamo, abbiamo aggiornato parecchio, la funzione round, questa è una funzione della libreria standard, però i concetti che diciamo sono gli stessi in qualunque funzione stiamo considerando. La funzione round è appunto una, l'abbiamo sempre chiamata funzione, ha un nome, si chiama round e può essere usata tutte le volte che vogliamo fare una certa cosa e infatti nella documentazione ufficiale c'è scritto in linguaggio naturale, in inglese, che cosa fa questa funzione, no? E a seconda che venga chiamata con un parametro, con due parametri, fa cose diverse, eccetera, eccetera, no? Ci descrive qual è l'effetto dell'utilizzo di quella funzione. Se uso la funzione round, con certi valori succede una certa cosa, cioè quindi calcola un certo valore. Non mi dice nulla su come è fatta dentro questa funzione, quali operazioni fa, probabilmente dovrà andare a maneggiare la rappresentazione in floating point del numero, in qualche modo, ma non ci interessa. A noi interessa sapere che mestiere fa, così capiamo se ci serve o se non ci serve il nostro programma e se ci serve come usarla. Poi come faccia questo mestiere non ci interessa più di tanto. Noi sappiamo che fa questo mestiere e quando ci serve la chiamiamo questa funzione, la usiamo, no? Noi usiamo il termine chiamare una funzione o invocare una funzione per dire adesso in questo punto del programma voglio che questa funzione esegua il suo lavoro, il lavoro per cui è stata pensata e documentata. E quindi ad esempio quando io scrivo il nome di una funzione e tra parentesi tonde un insieme di valori che sono i suoi argomenti, allora in questo momento sto dicendo alla funzione, senti, fai il tuo lavoro, esegui ciò per cui sei stata progettata con questi valori, lavorando con questi valori. In questo caso la funzione lavora, prende questo parametro 6,825, 7,5 e il secondo parametro che vale 2 e calcola un valore di ritorno in questo caso. Cioè lo scopo della funzione round è quello di calcolare un valore sempre reale che approssima nel modo opportuno i valori che sono stati passati in ingresso. In questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo valore che è stato calcolato dalla funzione round e l'abbiamo segnato una variabile che in questo caso si chiamava price. Va bene, no? L'abbiamo usato per segnare una variabile. Quindi abbiamo in qualche modo usato un nome di una funzione per svolgere un'elaborazione, un calcolo che non usa solamente gli operatori predefiniti insomma, sottrazione del linguaggio, ma dentro può fare cose più complesse. Dal punto di vista dell'esecuzione del programma, noi ciò che abbiamo fatto quando abbiamo scritto un'istruzione di questo genere, abbiamo detto a un certo punto ho due valori, questi due valori li passo a una funzione questa funzione fa cose e alla fine mi dà un risultato che io decido di salvare di una variabile potrei decidere di usarlo in un'espressione più complicata, round di qualcosa più qualche cos'altro e guarda, sta poi a me, a quel punto è un valore, ne faccio ciò che voglio. Quindi il mio programma va avanti in modo lineare dicendo io ho dei parametri, li passo una funzione, la funzione mi dà un risultato e nel risultato ne faccio ciò che voglio. Poi su un altro piano c'è la funzione che non cala dall'alto qualcuno questa funzione l'avrà scritta nel caso della funzione della libreria standard è stata scritta dal sviluppatore di Python ma in generale quando chiamo una funzione sto eseguendo del codice che è stato scritto da un'altra parte quindi questa funzione a sua volta non basta il nome per decidere cosa fa questa funzione corrisponderà a una serie di righe di codice che qualcuno ha scritto e possiamo riusare quelle righe di codice tutte le volte che vogliamo, abbiamo bisogno di quella funzionalità righe di codice che posso aver scritto io può aver scritto mio amico può aver scritto qualcuno in una libreria è indifferente quindi in qualche modo abbiamo due facce due lati della medaglia funzione da un lato è chiamare la funzione cioè qualcuno ha scritto una funzione io non ho bisogno, la chiamo gli passerò dei parametri e questa calcolerà il risultato l'altro lato della medaglia è sviluppare la funzione scrivere il codice, dargli un nome di una funzionalità che possa essere diciamo così, ritenuta utile e altri possono usare dove altri spesso sono me stesso perché mi fa comodo organizzarlo nel programma quindi una funzione è una macchinetta che elabora una certa serie di codice partendo da dei valori che riceve in ingresso che sono questi argomenti noi li chiamiamo argomenti della funzione questi argomenti possono essere valori inseriti dall'utente possono essere valori calcolati da qualche altra espressione l'importante è che siano dei valori che la funzione si aspetta di ricevere chiaramente se io ho la funzione radice quadrata la radice quadrata si aspetta di ricevere un valore se provo a passare nei due valori probabilmente mi darà un errore mi dirà guarda io non so cosa farmi del secondo valore nel caso della funzione round la sua documentazione dice che può ricevere un valore solo oppure due nel caso in cui ne riceva due il secondo parametro indica il numero di cifre decimali che mi servono altrimenti saranno zero quindi ogni funzione sa di potersi aspettare un certo numero di parametri di un certo tipo quando abbiamo il metodo find è un metodo non una funzione ma un ragionamento lo stesso find si aspetta di ricevere un parametro tipo stringa c'è la sotto stringa da cercare ed eventualmente un secondo parametro di tipo intero c'è la posizione da cui iniziare a cercare queste sono tutte nozioni che stanno scritte nella documentazione delle funzioni non è che le possiamo sapere a priori ogni funzione è stata progettata in un certo modo per ricevere certi argomenti che sono dei valori di certi tipi di dato che siano, diciamo così, consoni con ciò che deve sviluppare la funzione poi ci sono funzioni ad esempio invece che possono anche non avere alcun argomento io posso usare, che ne so, print senza nulla e questa mi stampa una riga vuota ad esempio quindi è possibile per una funzione nel momento in cui la creo dire questa funzione non ha bisogno di alcun argomento ogni ne serve uno, ogni ne servono due e così via a piacere e poi la funzione stessa normalmente non obbligatoriamente ma normalmente restituisce un valore a volte mi scapperà di dire ritorna un valore anche se in italiano non si dice grammaticalmente perché ritornare non è transitivo ma è una traduzione fatta male del return inglese che poi corrisponde alla parola chiave il return che si chiama nel codice però è il modo giusto di dire restituire un valore cioè la funzione calcola un valore e questo valore non se lo tiene per sé cioè quando la funzione round ha preso il numero e l'ha fatto la versione approssimata poi non è che se lo tiene per sé o lo stampa o ne fa chissà cosa no, deve restituire questo valore a chi ha chiamato la funzione quindi parlavamo prima di chiamare una funzione noi avremo un codice che diremmo che è il codice del chiamante colui che chiama la funzione e il codice del chiamato cioè il codice contenuto dentro la funzione dentro l'implementazione della funzione e quindi la funzione chiamata calcola un valore che viene restituito al chiamante all'istruzione chiamante quindi ci passiamo dei valori da una parte all'altra del muro io ti do dei parametri, degli argomenti e tu mi restituisci un valore di ritorno un valore calcolato a volte lo si può visualizzare così mentalmente è una cosa che fa delle operazioni che io potrei anche non essere capace di implementare ma qualcuno è stato capace io la uso per saperla usare devo semplicemente sapere che cosa fa e quale tipo di argomenti riceve e quale tipo di risultato eventualmente mi restituisce ok? questo se vogliamo è il concetto generale come facciamo a vabbè qui c'è una panoramica delle funzioni ma le abbiamo già viste questi elenchi di funzioni predefinite le abbiamo usate fin dal primo giorno le funzioni predefinite di python oppure quelle in altri moduli poniamoci però dal punto di vista di chi deve quindi usare una funzione che l'abbiamo già fatto fino al primo giorno non ci spaventa non ci siamo neanche posti troppo il problema vi ho detto se scrivi print tra parentesi metti la roba da stampare detto male no? entriamo un pochino più nel dettaglio e proviamo a chiederci cosa vuol dire costruire una funzione allora proviamo immaginiamo che qualcuno ci abbia detto guarda io ho un programma che deve lavorare molto con i solidi e quindi dovrò usare molte volte il calcolo del volume di un cubo perché perché sì ok? quindi per favore scrivimi una funzione che calcoli il volume di un cubo che è lato per lato per lato allora come lo possiamo fare? beh semplicemente allora facciamo un nuovo file che chiamo cubo.py quindi costruisco una funzione che calcoli il volume di un cubo allora cosa devo definire data una funzione? prima spiego che cosa mi serve devo definire il nome della funzione devo definire gli argomenti di cui questa funzione ha bisogno per lavorare e devo definire il valore restituito il nome è obbligatorio devo darle un nome gli argomenti di ingresso possono essere da 0 a tanti il valore restituito può essere da 0 a 1 o non c'è o c'è quindi sono in qualche modo opzionali allora il nome lo posso chiamare volume cubo perché oggi ho tanta fantasia quindi io creerò una funzione che si chiama volume cubo che accetta degli argomenti quanti argomenti accetta? 1 in un cubo l'unico dato che mi serve è il lato ok? quindi questo argomento sarà il lato che sarà lo chiamo lato e che sarà un numero intero reale basta ne basta 1 e restituisce che cosa? restituisce il volume che è anch'esso un numero reale magari il lato per dire le cose sensate deve essere maggiore o uguale zero perché ovviamente le funzioni lavorano con degli argomenti ma questi argomenti devono essere del tipo giusto e anche avere i valori corretti non c'è un round ma posso chiamare col numero di cifre decimali meno 2 quindi questo cosa abbiamo scritto qua? abbiamo scritto un commento che di fatto è una specifica della funzione dice come chiamarla con che nome con che argomenti dice cosa tendersi dal suo risultato e dice che cosa fa calcola il volume di un cubo questa specifica l'ho data con 4-5 parole per questo tipo di funzione può essere sufficiente a capire che cosa fa funzioni più complicate richiederanno delle spiegazioni un pochino più articolate della cosa che fanno ok finora ho scritto solo dei commenti specificare la funzione vera e propria definire la funzione vera e propria si fa con una parola chiave che si chiama def def definisce una funzione cioè crea una nuova funzione con le informazioni che ti dico col nome volume cubo tra parentesi parametri gli argomenti della funzione quindi def volume cubo crea una nuova funzione che si chiama volume cubo e per poter chiamare invocare questa funzione si suggerisce il suo nome nel resto del programma tra parentesi indico gli argomenti di cui questa funzione ha bisogno in questo caso ce n'è uno solo e per comodità o per necessità gli do un nome a questo argomento l'ho chiamato lato perché lo devo poter nel caso in cui ci fossero due tre argomenti devo poter distinguere quindi do un nome come se fosse un nome di variabile anzi è un nome di variabile e poi ho il corpo della funzione quindi l'istruzione def è un'istruzione che introduce un blocco infatti ho due punti come fosse un if come fosse un while solo che anziché eseguire cose semplicemente definisce il nome di una funzione e lo parcheggia lì e quindi due punti a capo inventato il corpo della funzione cos'è il corpo della funzione se è l'insieme di istruzioni che verranno eseguite quando se e quando qualcuno invocherà la funzione e quindi posso dire che il calcolo che faccio è uguale lato per lato per lato e ora restituisco il calcolo al chiamante questa è la funzione completa cosa ha fatto dentro la funzione ho fatto una serie di elaborazioni complicatissime che mi hanno portato al calcolare un valore che ho messo dentro una variabile che ho chiamato calcolo la potevo chiamare come volevo e poi ho usato l'istruzione return che dice interrompi l'esecuzione di questa funzione e restituisci questo valore quindi return fa due cose interrompe la funzione quindi se ci fosse un'altra istruzione qua sotto non verrebbe mai eseguita infatti l'editor già me la mette in grigio dicendo non ci arrivi mai qua quando esegui return la funzione finisce ok e finisce restituendo un certo valore che in questo caso è specificato da un'espressione qualsiasi in questo caso è solo una semplicemente una variabile calcolo ok quindi le cose che abbiamo scritto sopra nel commento le abbiamo qui nome della funzione def nome cubo argomenti della funzione ce n'è uno solo si chiama lato gli argomenti sono tra parentesi tonda se ce ne fosse più di uno li elenco tutti separandoli con una virgola abbastanza intuitivo l'elaborazione da fare cioè cosa faccio calco il volume del cubo e restituisce il volume che è un numero reale che guarda a casa è questo quindi restituire il valore della funzione si fa con l'istruzione return quindi abbiamo due parole chiave nuove def e return def apre un blocco in cui definisco una funzione return specifica interrompe l'esecuzione della funzione specificando il valore di ritorno il valore restituito quindi adesso che l'ho scritto posso eseguire questo programma che non fa nulla beh l'ho fatto partire non mi ha dato nessun errore che è già sempre qualcosa è già sempre un risultato però ovviamente non fa nulla devo usarla questa funzione questa funzione adesso l'ho scritta qua ce l'ho disponibile nel mio programma se il programma deve calcolare ad esempio il cubo del valore il volume di un cubo di lato 7 posso usare questa funzione quindi io posso dire lato 1 vale 7 volume 1 uguale volume cubo di lato 1 e poi posso stampare volume 1 quindi attenzione che questo codice che scrivo non è più rientrato non è sotto il def della funzione è fuori dalla funzione quindi fa parte del programma principale il programma principale ha un'istruzione alla riga 5 questa è un'istruzione di definizione legge la funzione e la mette da parte non la esegue non la fa funzionare anche perché nessuno ha idea di quale deve essere il lato da calcolare quindi def legge la funzione la mette da parte ma non la esegue da sola prima istruzione salva è come quando definiamo una costante lunghezza uguale a 10 quel valore viene messo da parte ma non viene usato ancora per nulla la funzione è la stessa sto definendo una costante semplicemente questa costante anziché essere un numero è un pezzo di codice e poi ho altre istruzioni che sono queste che sono normali istruzioni eseguibili quindi se eseguo questo programma dovrebbe stamparmi un numero che tutti a memoria sanno che il cubo di 7 è 343 scritto qua sotto ok? cosa sta succedendo? vabbè alla riga 9 è chiaro cosa sta succedendo crea una variabile ed è essendo un valore alla riga 10 io sto prendendo il valore contenuto in questa variabile che ho chiamato lato 1 e invoco questa funzione con questo parametro allora ciò che succede è che il valore di lato 1 7 viene copiato trasferito dentro il primo argomento in questo caso è l'unico il primo argomento della funzione quindi lato diventa una variabile temporanea se vogliamo dire utile solamente durante questa esecuzione di questa funzione che vale 7 e quindi la riga 6 eseguirà 7 per 7 per 7 e mette il risultato dentro la variabile calcolo questa variabile calcolo poi passa all'istituzione return che calcolo ovviamente varrà 343 punto 0 all'istituzione return questo valore il valore di ritorno della funzione il valore calcolato della funzione viene sostituito alla chiamata di funzione stessa dell'espressione di calcolo quindi quando io chiamo una funzione qual è il valore che vedo dopo che la funzione ha fatto il suo lavoro è il suo valore di ritorno che dipende ovviamente dai valori dei suoi parametri e dipende dal codice che c'è scritto dentro e quindi il programma poi va avanti con questo valore qui calcolato e lo usa lo mette dentro volume 1 eccetera io speravo di farvelo vedere con python tutor ma ah no adesso funziona 10 minuti fa non funzionava dunque python per vedere che giro fanno queste variabili prendiamo questo codice che abbiamo appena scritto e proviamo a incollare edit code su dai vediamo che oggi non è proprio collaborativo python tutor quindi magari ecco niente facciamo col debugger perché allora metto un breakpoint sulla prima istruzione nel programma e proviamo a eseguirlo in modalità debug e ci facciamo aiutare da ciò che succede qua ok allora io ho avviato il programma in modalità debug quindi lo vediamo passo passo cosa succede il programma è bloccato alla riga 5 prima di eseguire l'istruzione adesso vado avanti di un'istruzione e passo direttamente la riga 9 infatti abbiamo detto prima le istruzioni che fanno parte del corpo della funzione non vengono eseguite subito vengono messe da parte quindi l'esecuzione non esegue adesso la riga 6 e poi la riga 7 ho definito una funzione l'ho messa da parte ok qua il debugger mi dice guarda che adesso hai una funzione una variabile di tipo funzione che si chiama volume cubo e se vuoi andare a vedere boh è fatta tutta incasinata non ci importa l'abbiamo definita poi l'istruzione 9 è la più innocente che ci possa essere ho definito una variabile lato di tipo flot che ha è segnalizzata con un valore di tipo flot ricordiamoci che il tipo è del valore non della variabile e poi chiamiamo finalmente questa funzione allora la prima volta lo facciamo senza vedere nulla se io vado avanti all'istruzione successiva vedo che c'è una variabile volume 1 343 e il debugger perché è gentile mi dice guarda che la funzione che ho appena chiamato volume cubo ha ritornato ha restituito vedi che qua mi scappa ha restituito il valore 343 e io subito l'ho messo dentro volume 1 e lo stampo e va bene e verrà stampato qua però non abbiamo visto cosa è successo abbiamo usato la funzione come scatola nera e abbiamo passato un parametro che valeva 7 e abbiamo trovato un valore di ritorno che valeva 343 riproviamoci però con una tattica diversa vedete che qua c'è la frecciolina step over sul debugger che vuol dire esegui la prossima istruzione abbiamo sempre usato questa ma poi c'è un'altra che è una frecciolina in basso che è step into fanno la stessa cosa queste due azioni sempre tranne quando sono su una chiamata di funzione allora se gli sto chiamando una funzione faccio step over esegue la funzione e mi porta all'istruzione successiva dopo aver eseguito la funzione come abbiamo fatto prima non abbiamo visto niente se invece ci interessa capire come funziona la funzione scusate il giro di parole al suo interno usiamo step into che fa un passo dentro la funzione l'unica differenza ovviamente è quando c'è una chiamata funzione se non ci fosse una chiamata funzione di questa riga funzionerebbe esattamente nel stesso modo allora proviamo a entrare ricordiamoci il lato 1 vale 7 volume 1 non esiste ancora ok? non c'è entro nella funzione allora ero sulla riga 10 faccio un passo avanti mi sono trovato alla riga 6 mi sono trovato alla riga 6 dentro la funzione dentro la funzione in cui vedo una variabile che si chiama lato che vale 7 cos'è questa variabile che si chiama lato? è l'argomento della funzione che è stata inizializzata è stato inizializzato l'argomento col valore che aveva l'argomento passato alla funzione stessa poi se andate a leggere sui libri ci fanno una differenza tra il termine argomento e il termine parametro perché uno dei due è il valore che gli è passo e l'altro dei due è il nome della variabile che lo riceve ma a parte che non mi dimentico non mi ricordo mai la differenza un conto è il parametro l'argomento che ricevo un conto è il valore che ci metto dentro io preferisco parlare in termini di variabile e di valore perché è quello che sta succedendo sto prendendo un valore c'è il valore corrente di lato 1 e lo sto mettendo dentro una nuova variabile che si chiama lato che è l'argomento della funzione quindi questa funzione sa qual è il lato con cui è stata chiamata sa qual è il valore del parametro con cui è stata chiamata che c'era tra parentesi qui perché lo vede sulla sua variabile locale lato variabile locale cosa vuol dire variabile locale? vuol dire che questa variabile vive ed esiste solo dentro questa funzione poi faremo la controprova quindi sono arrivato alla riga 6 non ancora eseguita ciò che ho fatto adesso è la parte iniziale della chiamata di funzione cioè trasferimento dei valori e dei parametri poi c'è la seconda parte l'esecuzione della funzione cioè eseguire il suo corpo qualunque cosa dica e allora eseguiamo l'istruzione 6 che non è nulla di speciale crea una variabile calcolo uguale lato per lato per lato quest'altra variabile calcolo è di nuovo creata come variabile locale cioè questa variabile lato che è un argomento della funzione più questa variabile calcolo che è una variabile che mi sono creato perché mi faceva comodo sono entrambe variabili locali cioè esistono solo dentro questa funzione e per la durata dell'esecuzione della funzione questo significa tra l'altro che se io nel programma principale che è qua sotto avessi un'altra variabile che si chiama calcolo o un'altra variabile che si chiama lato vivrebbero di vita separata ok? non si vedono reciprocamente con qualche distinguo ok abbiamo fatto tutto il valore adesso siamo la sostituzione return che prende il valore non il nome non la variabile ma il valore che in quel momento ha quella variabile cioè 343 io non sto facendo il return di calcolo non sto facendo il return della variabile sto facendo il return del valore che in quel momento ha quella variabile quindi qui c'è scritto return 343 al programma principale non interessa qual è la variabile in cui l'ho messo questo valore ok? andando avanti di un passo ritorno nel programma principale dove 343 e questo è quello che abbiamo visto prima senza entrare nella funzione e eravamo esattamente al stesso punto in cui eravamo nella prima esecuzione in debug del programma e quindi abbiamo preso il 343 che c'era qua dentro e usato al posto di questa espressione il suo valore calcolato che viene poi assegnato volume 1 che poi stamperemo la cosa interessante è che se io adesso vado col mouse sopra il nome della funzione non mi fa più vedere che lato vale 7 e che calcolo vale 343 perché non esistono più né lato né calcolo infatti vediamo che le variabili locali attualmente definite non sono più lato e calcolo ma sono lato 1 e volume 1 cioè il concetto di variabile locale è come dice il nome locale rispetto alla parte di codice che sta eseguendo all'ambito di esecuzione che sta eseguendo ha in inglese si chiama lo scope l'ambito di esecuzione quindi ho il programma principale che mi dà uno scope ampio e poi ogni funzione che definisco ha un suo scope interno un suo ambito interno in cui vengono definite le variabili o anche le funzioni eventualmente che sono che giacciono all'interno del suo corpo se io poi volessi calcolare un altro volume di cubo sto appogliamo il programma lato 2 uguale 3.5 volume 2 uguale volume cubo di volume volume 2 eh no di lato 2 scusatemi print volume 2 e provassi a eseguire il programma mi stamperebbe il primo numero che è il cubo di 7 il secondo numero che presumibilmente è il cubo di 3.5 se vado a vedere questa cosa cosa succede in debug mi accorgo che allora entro dentro la funzione qui sto invocando due volte la funzione con due argomenti diversi ad ogni invocazione della funzione la variabile lato verrà inizializzata con il valore corrispondente alla sua chiamata quindi le varie chiamate sono indipendenti l'una dall'altra perché ciascuna riceve una propria copia dei valori fino alla dico copia poi centriamo più nel merito quindi qui entro lato vale 7 e il valore di ritorno calcolato varrà 343 il volume cubo è 343 e poi lo assegno alla variabile volume 1 e poi la stampo quando faccio la stessa cosa col valore 3.5 rientro nella funzione la funzione nasce nasce pulita quindi non si ricorda non vede i nomi delle variabili locali del programma esterno vede solamente i suoi argomenti 3.5 e vabbè calcola questo valore e che poi viene restituito qua in debugger esiste una voce strana che si chiama call stack che ci fa vedere quali sono tutte le funzioni attualmente attive nel programma quali sono tutti gli ambiti gli scope attualmente attivi nel programma cioè noi adesso siamo dentro la funzione volume cubo che ha queste variabili locali eravamo qua siamo bloccati alla riga 7 della seconda invocazione della funzione volume cubo di quella funzione invocazione che ho fatto alla riga 14 però questo volume cubo è chiamato dal programma principale module è il nome per lo scopo ampio per lo scopo principale e quindi se clicco qua guarda cosa succede se io clicco su module mi fa vedere le variabili locali di quell'ambito di quello scopo che sono accessibili saranno accessibili quando eseguirò il codice di quell'ambito e non alle funzioni viceversa sono ambiti separati mi fa vedere in verde guarda che questo programma non sta eseguendo quel codice ma era fermo a quella riga lì e poi è passato a eseguire una sottofunzione e quindi abbiamo un programma che è questo che è fermo alla riga 14 e è fermo nell'esecuzione della funzione volume cubo a sua volta alla riga 7 fermo alla riga 7 quindi ogni volta che chiamo una funzione questa funzione si crea un proprio orticello in cui ci va a mettere le variabili di cui ha bisogno e rimangono confinate lì ovviamente quando chiamo una funzione l'orticello del chiamante rimane e ritornerà ad essere accessibile e usabile quando la funzione ritorna quindi quando esco della funzione torno allora quando io faccio il return guardate cosa succede a questo povero call stack allo scope di volume cubo muore compare infatti si chiama stack come pila cioè perché io ho l'ambito principale ho l'ambito di una funzione poi un altro ambito ogni volta che creo una funzione crea un nuovo ambito e poi quando la funzione finisce questo viene tolto quindi si viene tolto dalla pila e poi lo stampa e fin qui è facile per conferma se io qua avessi provato a stampare calcolo anziché volume 1 perché dice beh si ho calcolato questo lato calcolo uguale lato per lato per lato lo stampo qua vedete che la variabile calcolo qua non è definita se provo ad eseguire questo programma mi dirà che il nome calcolo alla riga 11 non è definito uno potrebbe dire ma come non è definito l'ho definito alla 6 perché alle 11 non c'è no perché alla 6 sei dentro una funzione che ha i suoi nomi ha il suo ambito separato da quello del programma principale così come sarebbe semi stupido scrivere qua lato 1 lato 1 lato 1 allora ho detto semi stupido perché non ho potuto dire sbagliato perché purtroppo dico io l'ambito principale è visibile anche dentro le funzioni nel senso che python se non trova una variabile nell'ambito locale lo va a cercare in quello principale ma è un'eccezione cercheremo poi di togliercela dai piedi perché ci dà fastidio però cosa ho fatto qua ho fatto il programmatore che ha pensato ma io devo fare il cubo di 7 ok 7 cos'è la variabile lato 1 allora qua nella funzione ci metto già la variabile di cui dovrò fare il cubo anziché potrei anche a questo punto cancellare lo suo parametro non mi serve più no non sarebbe una cosa per nulla furba uno perché vado a usare una variabile che non è mia e questo crea casino due perché crea una funzione che non è riutilizzabile perché quando la vorrò può poi calcolare usare questa funzione per calcolare il volume di un altro lato e questa funzione poveretta è incatenata alla variabile del lato 1 e io invece la voglio rendere libera di calcolare il cubo di quello che voglio quindi dobbiamo veramente pensarle come cose separate ognuno ha il suo ambito e la funzione comunica col suo esterno tramite quei due meccanismi formalizzati che sono i parametri che riceve e il valore di ritorno che calcola quindi questo mi permette di essere libero di fare quello che voglio io posso fare direttamente print volume cubo di 2.1 così addirittura non ho neanche una variabile per memorizzare il lato e neanche una variabile in cui memorizzare il risultato semplicemente la uso come espressione e non è che succede nulla di diverso semplicemente andiamo avanti qua perché questa parte l'abbiamo già vista quando arrivo qua il programma principale cosa fa? oh c'è una print che è una chiamata funzione ma il suo argomento è un'altra chiamata funzione e allora raccolgo l'argomento e lo passo alla funzione quando entro nella funzione la funzione non sa da dove arriva questo valore del lato 2.1 non interessa è una variabile è una costante è un'espressione lei fa il suo lavoro mi dai un parametro io lo calcolo il cubo e poi te lo sostituisco e così come la funzione non interessa cosa ne farà il programma chiamante di quel valore lei lo calcola e lo restituisce il chiamante in questo caso lo schiaffa dentro la print e va bene lo stampa subito senza memorizzare da nessuna parte aggiungendoci un po' di folklore di approssimazione numerica ok? quindi e questo è un meccanismo molto semplice molto generale anche molto potente perché poi il tipo di argomenti che uso il tipo di parametri che trovo qua dentro può essere qualunque fatemi ancora vedere perché ci tengo ma lui non tiene a me ok a usarlo in Python Tutor vediamo se ce la facciamo perché ci fa vedere come si passano queste variabili adesso qua è un pochino piccolo provo a ringrandirlo senza è lo stesso codice no? qui lo sto eseguendo dentro Python Tutor perché mi fa i disegnini a fianco allora questi disegnini a fianco sono praticamente la stessa cosa che vedevo nel debugger solo un pochino più esplicito allora qui sono nel programma principale lui lo chiama global frame la lo chiamava module è la stessa cosa ok vado avanti definisce lato 1 che è una variabile che vale 7 all'interno del programma principale fatemi e poi chiamo la funzione volume cubo col dato però non è così che lo volevo vedere scusatemi se hanno tolto un'opzione che mi serviva che mi piaceva tanto ok in cui 7 me l'avrebbe messo in una casolina a parte e non qua dentro niente allora questo non è che ci aggiunga molto alla visualizzazione purtroppo sono aumentati gli utenti di python tutor e quindi lui ha ridotto le caratteristiche perché non ce la faceva più star dietro come potenza di calcolo quindi qua no vediamo la stessa cosa no come non detto ok proviamo un'altra funzione proviamo a fare una funzione che prenda un numero e lo raddoppi ok facciamo le funzioni complicate lo chiamiamo doppio per illustrarvi così attenzione che questa funzione è sbagliata lo dico subito allora se io faccio un programma principale che assegna x il valore 5 poi chiamo doppio di x e poi faccio print di x uno direbbe x uguale 5 doppio di x lo passo qui x uguale x per no facciamolo chiamare x facciamolo scusate y così non ci confondiamo non è vietato chiamare le variabili del programma principale uguale alle variabili della funzione però per capirci meglio teniamola separata y uguale 5 doppio di y y è quella variabile che devo raddoppiare lui la chiama x qua dentro e va bene la chiama x la raddoppio e quindi y sarà a questo punto 10 y varrà tranquillamente 10 peccato che vale 5 cosa sta succedendo sta succedendo che questa istruzione x uguale assegna una nuova variabile locale crea una nuova variabile locale che è diversa dal parametro della funzione cerco di spiegarmi con l'aiuto del debugger allora io qua ho la funzione y5 cioè la variabile y5 poi chiamo la funzione doppio e la variabile x riceve il valore 5 questo valore 5 altro non è che è un riferimento allo stesso 5 della variabile y quindi questa y qua e questa del modulo questa y5 e questa x5 dal debugger non si vede ma sono la stessa variabile sono lo stesso 5 che ha due nomi ha due papà ha due variabili y nel modulo principale e x nella funzione secondaria è la stessa lo stesso 5 non è una copia è lui voi mi dite ma perché fai questa differenza e lo vediamo domani con le liste che la differenza tra copia e riferimento cambiano da così adesso cerchiamo di entrare un po' nel meccanismo quando però faccio questa istruzione sto prendendo un valore 10 sicuramente 10 lo sto mettendo in una variabile x che è una variabile locale guardate cosa succede quando eseguo questa istruzione eh mannaggia qua è uscita dalla funzione diciamo che questa funzione fa anche altre cose perché se no non riusciamo a vederlo non riusciamo a vederla eh facciamo un print di x ricominciando da capo scusa? non ho messo a posto perché io quello che sto cercando di fare è ti modifico a forza la tua variabile quindi non c'è bisogno di ritornare adesso poi vediamo la regola generale allora quando sono qui entro dentro x uguale x per 2 eseguiamo questa x uguale x per 2 allora vedo che x vale 10 ma la y sopra continua a valere 5 quindi anche se io ho passato una variabile a una funzione ok eventuali modifiche del valore del parametro rimangono locali alla funzione non vanno normalmente a modificare la variabile del chiamante del programma chiamante ok? quindi se io volessi una funzione che prende una variabile e ne calcola il doppio non lo posso fare così non posso dire tieni questa variabile raddoppila per me perché lui può solo non riceve la variabile riceve il valore è un valore è un 5 poi se lui fa 5 per 2 ha calcolato un altro valore che lo segna alla sua variabile locale quindi inizialmente quando io chiamo una funzione il valore del suo argomento è uguale al valore che viene passato nel chiamante inizialmente se poi dentro la funzione paciocco questa variabile la modifico queste modifiche rimangono locali alla funzione stessa il che mi fa dire due cose come conclusione uno non facciamo queste cose non creiamo confusione se ho bisogno di fare dei calcoli locali diamo un altro nome alle variabili cioè cerchiamo di trattare dentro una funzione gli argomenti come se fossero costanti non è che scrivo seno di x e mi immagino che la x dentro venga cambiata no prima cosa come non è vietato ma per sanità mentale nostra sapere che questa x che stampo non è quella x della riga 1 perché nel frattempo è stata modificata ci aiuta la seconda cosa è che se vogliamo una funzione che calcoli il doppio l'unica cosa che possiamo fare è farlo restituire questo valore doppio e una volta che l'ho restituito memorizzarlo nella y del programma esterno così funziona ti passo una y ti chiedo fammene il doppio e tu mi fai il doppio me lo restituisci e questo valore doppio lo rimpiasso al valore vecchio della y ma ho aggiunto il return l'unico modo non è vero fino ad oggi lo è da domani non sarà più l'unico modo per far uscire un valore da una funzione è attraverso il return l'unico modo per far entrare un valore da una funzione è attraverso i parametri l'unico modo che ci piace perché in realtà come abbiamo visto la funzione stranamente può vedere anche i parametri dello scopo più esterno ma noi cerchiamo di evitare nel caso in cui una funzione non abbia prima dicevamo mai dimenticato il return sì l'avevo dimenticato perché faceva parte di questo ragionamento che volevo fare con voi ma è lecito avere una funzione che non ha un'istruzione return sì si può a volte ci sono funzioni che non devono calcolare nulla ad esempio una funzione che è data un numero me lo stampa circondato da asterischi proprio utilissima la funzione stampami def stampa decorato di un valore n e allora questa funzione cosa farà? farà print di tre asterischi poi n poi altri tre asterischi e quindi anziché fare print di y chiamerò la stampa decorato di y allora questa funzione fa cose ma non calcola nessun valore cioè il suo effetto è quello di stampare quindi non ha bisogno di restituire alcun valore di ritorno e quindi l'istruzione return posso non metterla semplicemente quando arrivo alla fine dell'ultima istruzione della funzione in automatico ritorna e quindi mi stamperà dieci contornato da asterischi chiamato la prima funzione per calcolare il doppio e poi ho chiamato questo dimmi sarebbe by reference la risposta ma però bisogna fare attenzione perché questi variabili come gli interi le stringhe sono immutabili lo vediamo bene quando facciamo le liste da domani perché questo è un punto critico in realtà è un alias che viene passato neanche una vera reference come sarebbe inciso ma ci arriviamo adesso partiamo dai valori semplici in cui non c'è nessuna differenza allora ok quindi in questo caso questa funzione stampa decorata non ha bisogno di restituire nessun valore se io fossi curioso ficcanato e mi chiedessi qual è il valore che viene restituito non mi darebbe errore ma mi stamperebbe un valore particolare che è none none è una costante particolare che vuol dire nessun valore ok quindi in realtà in python la regola è più semplice una funzione restituisce sempre un valore o il valore che gli specifico nelle istruzioni return oppure none che è comunque un valore potrei anche eseguire l'istruzione return senza alcun parametro senza alcun valore vedete qui ho fatto return x cioè restituisce un valore pari a x return senza niente restituisce none sottinteso è stessa cosa che scrivere return none infatti nessuno lo scrivere mai si lascia un return vuoto così a cosa può servire qua niente ma se avessi una funzione che ha vari casi con delle if varie in alcuni casi magari voglio restituire ritornare prima perché ricordate che il return ha due effetti restituire un valore se c'è oppure none se non c'è e interrompere la funzione quindi quando ho il valore o quando so che ho finito il lavoro posso fare return e il resto del codice non viene eseguito magari sono dentro un ciclo non devo fare altre iterazioni sono dentro una if non devo valutare l'altra condizione return sono fuori quindi l'istruzione di return senza nulla può essere utile anche per interrompere l'esecuzione della funzione quando ho finito ciò che devo fare interrompe all'istante e torna non interrompe il programma solo quella funzione e ritorna ovviamente al chiamante questa stampa decorata è utilissimo la usiamo anche nel cubo scusate la metto anche qua se metto questa funzione anche nel primo programma la potrò usare per stampare il mio volume del cubo ad esempio qua anziché print posso fare stampa decorato ho una funzione che lavora sul risultato di un'altra funzione non mi devo formalizzare se prima si chiamava print che era una funzione di libreria e adesso si chiama stampa decorato che è una funzione definita da me ma il meccanismo è esattamente lo stesso non cambia nulla possiamo usare tranquillamente in questo caso solamente il terzo verrà scritto con gli asterischi il valore di ritorno di una funzione viene usato come argomento passato alla seconda funzione ma di nuovo le funzioni non se ne accorgono loro vedono un valore per un argomento e restituiscono un valore in uscita in più una funzione può tranquillamente se vuole chiamare un'altra funzione no? immaginiamo di generalizzare il problema del cubo chiamiamolo un programma che si chiama potenze ad esempio no? perché magari ci serve il cubo ma ci serve anche il quadrato ci serve anche la quarta potenza e non vogliamo fare tante funzioni diverse allora cosa possiamo fare? possiamo definire una funzione potenza che riceve una base e un esponente questa è una cosa inutile perché c'è già l'operatore di esponente in python che restituisce base elevato esponente e poi la miglioriamo e poi potremmo definire la funzione cubo dato un lato che restituisce la potenza del lato all'esponente 3 così come posso definire la funzione quadrato del lato che restituisce la potenza del lato elevato a 2 cosa sto facendo a vedere cosa sto facendo a vedere che una funzione tranquillamente all'interno del proprio corpo può chiamare un'altra funzione e allora a questo punto avremo tre ambiti che si accatastano se io faccio qua print cubo di 5 e un altro print quadrato di 4 posso vedere cosa succede in modalità debug metto un breakpoint qui perché abbiamo capito che le istruzioni sopra non fanno niente e quando stampo cubo di 5 cosa succede che il programma principale chiamerà la funzione cubo ci entro dentro la funzione cubo che è un fermo alla riga 5 è stata chiamata dal programma principale alla riga 10 ok e parte con una variabile locale che si chiama lato che vale 5 però poi per lavorare lei chiama un'altra funzione che si chiama potenza con due parametri uno è il 5 che ha ricevuto a sua volta in dono e l'altro è un 3 perché lei sa che deve parciargli un 3 allora se richiamo entro una seconda funzione vedo che adesso sono dentro la funzione potenza chiamata da cubo chiamata dal programma principale sono chiamate annidate incastrate una dentro l'altra la variabile la funzione potenza ha due variabili locali che si chiamano base esponente perché sono i suoi due argomenti poi questa funzione è una riga sola quindi non ha altre variabili locali di cui abbia bisogno che è chiamata da cubo che ha altre variabili locali in questo caso a lato che è chiamata dal programma principale che in questo caso non ha variabili locali e quando ho i ritorni dei valori quindi apro ambiti su ambiti una funzione ne chiamo un'altra che ne chiamo un'altra ogni volta ogni funzione vede come variabili locali i suoi parametri che sono stati calcolati definiti dalla funzione chiamante quindi rispetto a cubo il chiamante è il programma principale rispetto a potenza il chiamante è cubo quindi facciamo attenzione quando usiamo l'istruzione return non stiamo ritornando al programma principale forse sì forse no stiamo ritornando a chi ci ha chiamati al nostro chiamante che può essere il programma principale o può essere un'altra funzione che a sua volta è chiamata dal programma principale e poi quando torno indietro ovviamente vado a smontare uno per uno tutti questi ambiti annidati esco la potenza ritorno dentro cubo e poi ho un valore che a questo punto è il valore di ritorno che ho ricevuto 125 e lo restituisco a sua volta al chiamante che poi stamperà il 125 quando chiamo quadrato e ci entro dentro anche lui entrerà nella funzione quadrato questa volta che per la sua volta chiama la funzione potenza quindi in questo caso la funzione potenza viene chiamata a come padre non più cubo ma quadrato e infatti il suo esponente è 2 perché 2 è ciò che gli ha passato come secondo parametro la funzione quadrato si tratta di non perdersi se le funzioni le vediamo una per una poi il meccanismo funziona è un meccanismo semplice e generale funziona sempre nello stesso modo non ci sono eccezioni strane o cose strane semplicemente ricordiamoci che in ogni momento quando sono dentro una funzione ho più ambiti attivi contemporaneamente ogni ambito le sue variabili locali che sono separate dalle altre da quelle delle altre funzioni questo l'abbiamo fatto col cubo con delle variabili semplici ma funziona con qualunque tipo di variabile sto guardando se qua c'è qualcosa di più da dire ma diciamo che abbiamo fatto tutto lavorando sugli esempi in questo capitolo ci sono varie cose che sono dedicate come argomento avanzato ma sicuramente la prima volta le schippiamo vado di ritorno eccetera eccetera due cose voglio ancora una cosa voglio dirvi e un'altra voglio fare insieme a voi una funzione è tanto utile quanto è facile capire che cosa serve o che cosa fa ok qui ho chiamato potenza boh cosa vuol dire c'era una base sì gli argomenti si chiamano base esponente questo mi dovrebbe far capire forse che cosa fa allora la cosa importante quando vi scopo una funzione immaginate che la funzione la scrivo io ma la uso qualcun altro la cosa importante è che questo qualcun altro abbia accesso alla documentazione che spiega cosa fa la funzione ricordiamo all'inizio abbiamo detto la funzione round non sappiamo come è scritta ma la sappiamo usare perché è spiegata allora come posso fare a spiegare cosa fa una funzione vabbè nel primo caso ci avevamo messo dei commenti che lo spiegassero in python esiste una convenzione per agganciare la documentazione di una funzione alla funzione stessa quando io vado sopra print mi fa vedere la documentazione di print quando vado sopra cubo mi fa vedere semplicemente che cubo è una funzione ma non c'è la spiegazione ecco per raggiungere la documentazione di una funzione è sufficiente mettere come prima istruzione una stringa di quelle multilinea con la tripla virgoletta tutto ciò che scriviamo in questa stringa verrà usato interpretato come documentazione di questa funzione infatti adesso se vado sopra cubo mi dirà che cubo fa ghiu ghiu c'è un modo più furbo di scrivere ghiu ghiu è quello di dire vedete che quando scrivo queste virgolette qua devono essere come prima istruzione dopo la def dentro la funzione e non devono essere assegnate nessuna variabile niente non ci faccio nulla ci metto una stringa che va persa non serve a niente ma viene interpretata dall'editor in questo caso mi dice l'editor mi dice vuoi generare una doc string c'è una stringa di documentazione sì ciccio non lo voglio fare ci clicco sopra e lui mi prepara un template in cui posso descrivere la funzione quindi dico questa funzione per calcolare il volume di un cubo dato il lato poi mi dice il lato che cos'è beh il lato sarà un float mi indicano questi simboli di underscore i posti a riempire no? float e questa è la lunghezza del lato ritorna invece un valore float che è il valore del volume questa è una viene interpretata nella funzione come un commento quindi una stringa di cui non faccio nulla quindi viene ignorata ma viene interpretata dall'editor come documentazione se io vado su cubo mi fa vedere in modo formattato quello che ho scritto prima quindi il fatto di scriverlo così con alice return eccetera me l'ha compilato da solo ci sono 3 o 4 standard diversi con cui scrivere queste cose ognuno può usare diciamo così quello che preferisce l'importante è che no due punti a capo tripla virgoletta doc string e scrivo la spiegazione della funzione e chiunque usi questa funzione può semplicemente vedere la sua documentazione cosa fa che argomenti riceve e che valore in uscita calcola le funzioni le ho scritte prima del programma ho scritto la funzione potenza la funzione cubo la funzione quadrato e poi le ho chiamate non è un caso se io avessi messo le print all'inizio alla riga 1 avessi chiamato la funzione cubo e lui mi dice scusami ma cos'è cubo? una variabile una funzione un castello di carte non è ancora definito quindi prima di chiamare una funzione è necessario definirla che è un po' scomodo anche esteticamente perché sarebbe bene avere come prima istruzione il programma e poi sotto le funzioni che mi servono ma a questo ci arriviamo una delle prossime volte quindi ricordiamoci che prima di chiamare una funzione è necessario che questa sia definita il modo più semplice per oggi con quello che dobbiamo fare oggi è mettere il programma principale in fondo e le funzioni davanti l'altra cosa che volevo farvi vedere oggi ancora ma la inizio ricordate che la volta scorsa ho detto ma c'è un esercizietto che si fa in fretta a fare che è quella della briscola esaustiva cioè avevamo fatto tempo fa la settimana 4 il programmino che date due carte diceva quale vincesse adesso abbiamo detto data una carta e tutte le altre carte del masso dimmi quale vincerebbe allora questo è un classico esempio di una parte di codice che abbiamo già fatto date due carte dimmi chi vince da usare in un programma più complicato e non vorrei andare a modificare quel programma là che funzionava meglio non toccarlo allora non lo finiamo lo impostiamo ma se volessi in questa settimana farlo con la conoscenza delle funzioni che cosa farei? io ho bisogno di una funzione che date due carte cioè il programma della settimana 4 cosa faceva? beh faceva roba ma di base l'algoritmo che faceva era questo determina la carta vincente con una serie di if di controlli di lavoro che faceva era anche lunghetto immaginiamo di poter estrarre questa parte qua e metterla dentro una funzione come sarebbe fatta questa funzione? di quali informazioni ha bisogno questo algoritmo per poter lavorare? beh mi pare che avrebbe bisogno solamente di trarre informazioni il semi di briscola la carta 1 e la carta 2 e quindi mi conviene definire una funzione carta vincente che riceve tre parametri carta 1 carta 2 semi briscola e questa funzione restituirà che cosa? beh siamo noi a decidere questa funzione possiamo decidere che restituisce 1 se vince il primo oppure restituisce 2 se vince il secondo qui sto solo scrivendo pseudocodice per ricordarmi cosa fare prima oppure posso dire che ritorna la carta vincente quindi in questo caso restituirà un numero intero 1 o 2 il pareggio non è previsto nell'altro caso restituisce una stringa che corrisponde alla prima carta o alla seconda carta possiamo deciderlo potrebbe essere true e false hai vinto sì no però in questo caso abbiamo un algoritmo che non è solo calcolo al cubo un algoritmo bastante complicato che riusciamo a isolare ci sono dei valori di ingresso e dei valori di uscita la cosa più sensata secondo me è la prima perché la seconda è più complicata perché sono la carta vincente ma per capire chi è dei due che aveva vinto devo andare a fare delle if ma insomma non cambia molto e una volta che definisco questa funzione e dentro ci metto il codice dell'altra volta un pochino aggiustato e poi per il programma principale è facile dovevo leggere una carta e provarla con tutte le altre allora dovrò semplicemente dire leggo una carta uno poi qui andiamo a prendere il codice fatto bene dall'altra parte no? i semi di briscola e poi cosa farò? chiamerò tante volte questa funzione per ogni carta del mazzo e come faccio a generare le carte del mazzo? posso avere un ciclo for per i semi fiori quadri picche cuori quadri fiori picche posso avere un ciclo for valore che sarebbe semi della carta 2 il valore della carta 2 nei i valori possibili quindi 2 4 5 6 7 jack donna re 3 e asso e quindi la carta 2 altro non sarà che valore 2 più carta 2 più semi 2 e quindi potrò trovare che il risultato vincente uguale carta vincente di carta 1 carta 2 briscola questo è il seme non è il programma poi in realtà qua va complicato perché io devo fare attenzione che carta 2 sia diversa dalla carta 1 non ha senso giocare una carta contro se stessa quindi ci devo aggiungere un if tutto per dire io qua ho un ragionamento che sto facendo per generare tutte le carte del mazzo per ciascuna di queste devo fare un'operazione che di per sé è complicata e non se cercassi di metterla lì dentro dentro questo doppio for mi indenta tantissimo e poi perdo il filo facilmente io invece la isolo dentro una funzione che ha un'interfaccia chiara 3 string entrano un valore numerico esce fine ok poi anche la lettura dei dati è la stessa cosa quindi usiamo proprio le funzioni come strumento per dire ok questo è il mio pezzo del ragionamento lo metto dentro una funzione una volta che l'ho risolto quel pezzo del ragionamento l'ho messo in una funzione non ci devo più pensare penso a un'altra parte del programma che dà per scontata quella parte di prima non ho più un programma unico che mette tutto insieme se le variabili si chiamano carta1 cartaij le posso riusare non importa siamo in funzioni diverse quindi impareremo a così come abbiamo cercato di imparare a strutturare il ragionamento su un esercizio per blocchi per fasi adesso da oggi abbiamo lo strumento materiale per poter contenere specificamente questi blocchi dentro le funzioni e quindi quando riusciamo a decomporre un problema in sottoproblemi di fatto dal punto di vista del codice stiamo decomponendo un programma in un insieme di funzioni ciascuna delle quali ha bisogno delle altre per completare il problema di per sé non fanno nulla le funzioni ci aiutano a organizzare il codice le teniamo lì impareremo poi dei dettagli sulle funzioni più avanti invece da mercoledì iniziamo l'altro argomento grande che è quello delle liste dove il gradino di complessità comincia a salire un pochino e anche di divertimento spero ma adesso andiamo a casa buonasera a tutti grazie